L'Italia è un paese nel quale l'informazione non è libera, giornali e televisioni sono politicizzati, di fatto l'informazione è tutta propaganda da parte delle caste che puntano a rincoglionire la gente ed ottenere il loro voto. I partiti sono delle cricche che truffano l'elettorato con un'informazione non corretta, le masse vengono indotte a votare delle organizzazioni che non rappresentano gli interessi della collettività. L'informazione è un potere in mano ai partiti. La vera democrazia si compie solamente quando l'informazione è libera. L'informazione è libera solo quando non ha padroni. Giornali e televisione hanno costi da sostenere, questi costi sono supportati dalle lobby che mirano a far propaganda politica. Esiste tuttavia un'informazione libera, che non ha costi e che quindi non è assoggettata ad un padrone, l'informazione libera è quella della rete, internet è una fonte di informazione onesta e indipendente ed è impossibile monopolizzare l'informazione su internet alla stregua di come avviene con i giornali. Per questioni sociali, all'informazione su internet accede solo la parte più evoluta degli italiani, una piccola parte accede all'informazione libera, mentre la parte più anziana per questioni di abitudini comportamentali subisce la propaganda passivamente tramite la televisione e i giornali. Con il passare degli anni, assistiamo ad un lento ricambio generazionale, i giovani pian pianino invecchiano, e gli anziani un po' alla volta passano a miglior vita e automaticamente sempre più gente voterà per i movimenti liberi, con il passare degli anni i sostenitori dei partiti tradizionali diminuiranno, questo perché la generazione di quelli che subiscono l'informazione passivamente un po' alla volta scomparirà, in un futuro prossimo non sarà più possibile rincoglionire la gente tramite televisione e giornali, ogni individuo sceglierà autonomamente a quali fonti attingere e sarà anche libero di intervenire perché internet dà anche la possibilità di esprimere il proprio pensiero e di venire protagonista, cosa che invece gli altri media non offrono. Nel prossimo futuro i cittadini saranno realmente consapevoli di cosa stia accadendo e saranno realmente partecipi alla vita politica del paese, non ci resta che attendere.